ciao a tutti sono disponibili i nuovi moduli wifi questa volta con radiofrequenza integrato cosa può fare la radiofrequenza molto semplice ti permette di gestire anche dai telecomandi della linea della stessa linea in poche parole come funziona se dovesse per qualche motivo andare via la rete internet di casa o non ti funziona per il momento lo smartphone l'interno dello smartphone potete sempre gestire in maniera smart dai vari telecomandi che ti permette sempre di spegnere accendere dimerare la luminosità o gestire i vari canali del vostro modulo al momento abbiamo tre tipi di telecomando il monocanale il due canali e il modulo per fare le dimerazioni abbiamo anche il modulo che ti permette di fare accendi e spegni switch la versione dimmer il modello switch con due canali che ti permette di gestire due circuiti di led e abbiamo anche il modo tapparella questi prodotti vi permettono di creare una casa domotica nella quale potete gestire da telecomandi radiofrequenza da interruttore locale tradizionale di casa dallo smartphone e dal vostro dispositivi alex o google vi presentiamo il modulo switch interruttore per due canali questo modulo vi permette di gestire due circuiti led da due interruttori adesso vi ho messo solo un interruttore per avere un schema diciamo un po più chiara di quello che il collegamento come funziona questo disposto modulo allora come vedete abbiamo due lampadine collegate questo interruttore è collegato se soltanto alla s1 quindi al canale 1 possiamo accendere o spegnere in questo caso accendere e spegnere la lampadina è collegata all'1 se avessi una lampadina sulla s2 non potremmo accendere e spegnere solo la lampadina 2 questo modulo permette di gestire fino a due dispositivi a 150 watt quindi non solo una lampadina potete pure avere un lampadario con 20 faretti importante che non vada a superare 150 watt questo è un modulo wifi col sistema radiofrequenza integrato sono i moduli nuovi della nostra linea diciamo dei prodotti smart lighting che ti permette di gestire sia da interruttore come vedete da interruttore quindi da un comando locale sia da smartphone che dispositivi vocali come amazon alexa o google in più avete anche la possibilità di acquistare dei telecomandi che sono telecomandi da muro caramitati che possono trasformarsi in semplici controlli questo controllo vi permette di accendere tutte le luci spegnere tutte le luci gestire la linea s1 accendi solo a linea 1 spegni sulla linea 2 o la linea 2 e spegna oltre a questo telecomando che vi permette di gestire canale 1 e canale 2 abbiamo anche dei telecomandi con dimerazione e la versione da un semplice due tassi che vi permette di fare soltanto accendi e spegni questo è un modulo interruttore wifi ma abbiamo anche moduli per la tapparella che vi permette di usare lo stesso telecomando quindi di fare alza tapparella chiudi tapparella con tantissime altre funzioni in più ci sono anche dimmer sempre wifi con radiofrequenza o switch anche semplici da un solo canale ciao 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 ciao